Il 28esimo reggimento Pavia di Pesaro ha un nuovo comandante, è il colonnello Massimo Marceddu, sardo, classe 1973, che arriva dalla Folgre di Livorno e sostituisce il colonnello Luca Felicissimo, che dopo due anni di servizio a Pesaro inizierà un nuovo prestigioso incarico presso il comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito a Roma. Questa mattina la caserma del monte era tirata lucido per l'occasione e davanti alle maggiori autorità cittadine, dal prefetto Carla Cincarilli al sindaco di Pesaro Matteo Ricci, si è tenuta la toccante cerimonia di avvicendamento, con il passaggio della bandiera di guerra dalle mani del colonnello Felicissimo a quelle del colonnello Marceddu, sotto lo sguardo del generale di brigata Ivan Caruso, che comanda tutte le forze speciali dell'esercito, un'eccellenza di cui andare orgogliosi e che fa scuola in tutto il mondo. Il Pavia infatti è un'unità operativa che si occupa delle comunicazioni operative nei territori ostili, come ci ha spiegato lo stesso generale Caruso. Il ventottesimo reggimento Pavia è un reggimento unico nel suo genere, si occupa di comunicazioni operative nell'ambito della difesa e ha il compito di studiare le popolazioni, l'atteggiamento delle aree in cui noi veniamo impiegati operativamente per facilitare l'ingresso delle forze armate italiane e quindi acquisire il consenso della popolazione locale. Le comunicazioni operative del reggimento Pavia, che ha in forza circa 500 unità, impiegano i più sofisticati mezzi comunicazioni di massa, ma operano anche attraverso canali tradizionali, come la comunicazione diretta faccia a faccia, la diffusione di messaggi attraverso altoparlanti e la distribuzione di volantini taglieri militari. Ha dato il suo contributo fondamentale anche durante l'ultima emergenza bomba a Fano e attualmente è impegnato in operazioni all'estero che si stanno svolgendo in Afghanistan, Libano, Kosovo, Somalia ed Iraq, partecipando anche all'operazione strade sicure su tutto il territorio nazionale. L'aggiornamento degli uomini e delle donne del ventottesimo Pavia è in continuo e il nuovo comandante intende proseguire l'ottimo lavoro già svolto dal colonnello Felicissimo. Sono arrivato a Pesano, mi sono trovato molto bene e cercherò di portare tutta la mia esperienza in contributo del reggimento, sostanzialmente continueremo sulla linea che è stata seguita fino a questo momento, partecipiamo alle esperienze internazionali, alle operazioni internazionali sia in Afghanistan, sia in Libano, sia in Kosovo, fornendo il nostro contributo, sostanzialmente cercando il consenso della popolazione per supportare le operazioni militari. Grazie. 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 Grazie.